ciao a tutti oggi prepareremo il formaggio spalmabile tipo philadelphia il tempo di preparazione della ricetta è di un minuto circa più otto ore di rivoso in frigo ingredienti sono yogurt greco panna e sale andiamo in via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo yogurt greco la panna fresca e il sale chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 2 prendiamo una ciotola posizioniamo in una ciotola il cestello del bimbi e ricopriamo il cestello con un canovaccio il composto è pronto adesso lo trasferiremo all'interno del cestello adesso posizioniamo il cestello all'interno del bimbi chiudiamo con il coperchio e posizioniamo il cestello il boccale in frigo per almeno otto ore a sgocciolare trascorse le otto ore abbiamo ripreso il boccale dal frigorifero formaggio spalmabile come vedete si è ben compattato adesso lo trasferiremo in un contenitore per essere servito formaggio spalmabile tipo philadelphia si conserva in frigo per 2-3 giorni grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti